Salve a tutti ragazzi e bentornati a me in Shosha E ci siamo, siamo arrivati all'ultima puntata di Dragon Ball Z Kakarot Però vi dico che ancora non so se ci farò una se... no, l'ho fatta tutta, l'ho fatta tutta Ma non potevo non farlo ragazzi perché mi avete dato un supporto incredibile Infatti solitamente faccio i ringraziamenti alla fine del video Ma questa volta voglio farlo all'inizio perché mi avete fatto rivivere un po' l'infanzia di quando tornavo a casa Dopo scuola e c'era Dragon Ball quindi grazie a tutti ragazzi Ma soprattutto pensare che siamo a gennaio 2020 e stiamo qua come degli ozzaro, degli scimmioni fomentati a bestia con Dragon Ball Z Una cosa che guardavo io quasi vent'anni fa, cioè è assurda sta cosa ragazzi Vi lascio al video ma vi ricordo che ci saranno sempre nuove serie su questo canale Quindi non ve le perdete E ci siamo ragazzi, il momento che tutti noi stavamo aspettando E' arrivato l'epico scontro finale contro Machin Buu sta per iniziare Devo dire due cose, la prima è che di tutte le saghe questa forse era quella che mi ricordavo di meno Ma soprattutto nel momento in cui sto registrando non saprò mai chi avete preferito Tra Gogeta e Veget purtroppo Dettoci ragazzi sono prontissimo Ho sia Goku che Vegeta al massimo Vuol dire che ho sbloccato tutte le mosse possibili Oh... O... O... Beh Gita! Questo è il più potente di dare un'altra! Qu'è? Qu'è? ok oh oh sono ma ma puto Esatto ragazzi Il Majin Bu originale Eh già Eh già Tutte cose che vi avevo già anticipato all'inizio di questa saga In questo momento ragazzi questa non è la versione forse più potente di Majin Bu Però è sicuramente la più irrazionale La più distruttiva Questa è la versione forse più potente di Capite ragazzi La pericolosità di questo personaggio E lui faceva esattamente questo all'inizio Distruggeva pianeti e basta Esatto ragazzi Li stiamo lasciando indietro Perché la terra in questo momento Non c'è più I nostri amici Attenzione vedete ragazzi Anche parole diverse Da un Vegeta qualsiasi Che comunque vi ricordo Adesso verso la fine di questa saga Compierà il definitivo cambiamento Però qui già è cambiato Buongiorno Recaio Comunque Majin Bu può sopravvivere nello spazio E come detto faceva questo Distruggeva pianeti Eh anche questa è una cosa piuttosto diversa E mi ricordavo che Majin Bu andava in giro per la galassia A distruggere pianeti In cerca di Goku e Vegeta Comunque abbiamo elaborato la strategia Insomma evocare Mannaggia io che mi pio il caffè Mannaggia la pupazza Non so parlare Ma che mi succede ragazzi Col teletrasporto che ha imparato Vegeta sei l'unico che non ha capito Come funziona il teletrasporto Cell dopo essere stato distrutto Teletrasporto Bu teletrasporto Eh minchia Aspetta Ma che lo dico mentre combattiamo Ehm 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 Dai Sasso carci al forbice No Bim Bum Bum Eh sì Anche perché se stiamo aspettando da te Vegeta che te ci trasformi Che però c'è in un videogioco Non mi ricordo quale ma c'è L'hai svegliato Eccoci ragazzi L'epico scontro Kibu Siamo pronti La versione Più pazza Contro uno dei Super Saiyan Più ignoranti In assoluto Allora ragazzi è molto bello questo momento Perché ovviamente Che sta a fare Prenditi la sfera Genkirama X Tieni mangiatela tutta Dai veloce Olè Li hai distrutti tutti Ah no uno è rimasto in piedi È molto bello dicevo questo momento ragazzi Perché Durante questo combattimento C'è la piena La presa Di consapevolezza Da parte di Vegeta Di essere inferiore Feloce che questa me la tira Ok Guardate che figo ragazzi Wow Massima potenza Dicevo La presa di consapevolezza di Vegeta Di essere inferiore Nei confronti di Goku È molto bello il discorso Però Se noi andiamo a vedere bene ragazzi In realtà Vegeta Non è mai stato sconfitto Da Goku Cioè andate Fate per il calcolo Quando è che è stato sconfitto Mai Oh raggio caramella Arca C'è diventato una caramella Non è mai stato sconfitto Realmente In un combattimento Uno contro uno No 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 Eh mannaggia guazza Eh questa è una combo devastante Cosa sta facendo Oddio posso scappare Eh sì che scappo Ando vado Finita ragazzi È finita Eh mo però Mo però so cazzi tuoi eh Adesso basta Pugno del drago Oh mamma mia Ragazzi queste tecniche Non le avevamo mai viste insieme eh L'ho appena sbloccate Come detto Dai sono stato bravo Ho detto spesso che Vegeta insomma Non ha mai sconfitto nessuno De importante Ed è così Effettivamente non ha sconfitto Mai nessuno De importante Porco Juve Però è sempre stato decisivo Nella sconfitta Di un nemico no Che ne so Contro Cell Gli lancia Insomma quella Bomba di energia Per distrarlo E quindi Gohan Lo finisce No no mi sa che non ce la faccio Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Non ce l'ha fatta Non nulla Veloce Ok Vabbè Conto Freezer Diciamo che è più importante Per rivelare un po' Ciò che sono stati Saiyan Abbiamo riso Bu Abbiamo scherzato Ma adesso È la tua fine Pugno del drago Che poi in Budokai 3 Sempre il mio preferito Il pugno del drago Era la mossa finale Di Goku Super Saiyan 4 Eccolo forse Il discorso di Vegeta Sconsolato Ed è per questo ragazzi Che mi piace Il pubblico Il pubblico Mi piace Il pubblico Eccolo Invece Eccolo Cacarotto Stai Mi 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 La super sfera Genkidama Questa cumulo è necessaria Perché è da poco tornato in vita Quindi di nuovo non riesce a reggere Il Super Saiyan 3 Che cazzo stai facendo Stai proprio così Grazie Perché è adesso C'è la sua vita Mi sape un uccionismo C'è la sua vita No, non lo so C'è la sua vita C'è la sua vita E la sua vita C'è la sua vita Qui c'è la sua vita Vabbè Che c'è la tua vita Nota come L'hova E' la sua vita Ok Gràcies Vabbè Non saremo mai alla pari Ma solo Il coraggio e l'orgoglio del principe di Saiyan Può rivaleggiare contro questo Bu Super attacco Big Bang Cannone Galic spezza limiti C'è quindi la versione più potente in assoluto Ho il Final Flash a livello 3 Fondamento dell'infinito Le proveremo tutte Vi posso assicurare ragazzi Che questa è la versione più potente di Vegeta possibile In questo momento del gioco Secondo me a livello di attacchi È anche più potente di Goku Li preferisco Allora partiamo Sfondamento dell'infinito Eh però l'ho mandato troppo lontano Siamo Vegeta siamo importanti E anche in questo combattimento saremo importanti ragazzi No Sceglieremo la strategia giusta Oh Esplosione disastrosa Uh Povero Vegeta L'ha preso in faccia Allora aspetta Aspetta questo Final Flash Va Ah 200.000 Come ti piace Il Zimbardone 450.000 ragazzi Per quello vi dicevo Guardate che Vegeta È fortissimo Secondo me pure A casa Oh S S ragazzi Mi sono preso un S E' golosissima L'ho detto che è troppo più forte che Vegeta A livello di mosse Guardate che Ecco chi è il vero salvatore della Terra Ragazzi Rendevi omaggio a Mr. Satan L'ho detto che C'è questo? Ah, l'amplice di M. Saturno è venuto con il suo figlio. Il suo figlio è venuto nel corpo, quindi non si può essere venuto con il suo figlio di Saturno. E quindi, l'amplice di lui? Ma, ma non è un problema di Saturno. ma non si è un problema, non è vero sì tu non è vero vieni a sapere vieni Come vuole ? Come comunque l' certo di sente! Perché iliese! Dici che l'acqua! Nienti che risp structura benevece. Ma... Cosa? C-Ciccio. Quando ero morto, non ero nulla. C-Ciccio. E' un super saiyajista 3. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Uccidimi. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Tira fuori l'asso nella manica. Questo questo io ci steal942,221. Siamo tutti i seti della Bowl. Ora, ritмет Dieser holtemosci. Sì, grazie. Visi che bellissima, Sì, ora ci sono tutti i DRAGON BALLi, sono tutti i 7 stazioni. Ah, è vero? Sì, chiedi il polunga polunga. Ti voglio di fare un'oggiura a tutti. Prostè, che deve tornare l'attuazione di terra. Poi, che deve essere morto a tutti i dati di questi sottotitoli. E deve essere ridotto per la vita del mondo. E' questi due! E? E... Ima, è proprio il momento? Ah, ah... E' quello che d'altro? E' quello che d'altro è tutto! E' proprio il momento! E' la mia due domande è la mia, per farvi un'altra persona che ha scelto il Vue, non è vero più facile? Cosa? Cosa! Vabbidi e Dabla Sì, non ci sono ancora più Ma non ci sono ancora più Ma non ci sono ancora più Vabbidi e Dabla La stagione Puffolun Puffolun Sì Ok Che poi ragazzi non capisco perché Gli devono parlare in namechano E poi lui risponde nella lingua normale Vabbè Sì 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 You Ragazzi, il terzo desiderio non poteva essere Fai venire qui Gohan Ci pensava lui Sparecchiava E infatti bravo Goku Soll'è無理 daよ Buga ai te chai Ili non poteva essere Che è un po' di tutti i mondi E' un po' di tutti i nostri Hai detto da lontano A che hai Che chiamo la faccia Chiamo tutti i nostri E' un po' di tutti i nostri E' un po' di tutti i nostri C'est lo stesso E' un po' di tutti i nostri E' un po' di i nostri chi è? questo è il suo nome di Chai Ossama è vero Begitta è una cosa che mi ha chiesto di me, che mi ha chiesto di me, che mi ha chiesto di me, che mi ha chiesto di me senti? Grazie a tutti Non glielo dire Digli semplicemente alzate le mani e le alzate Ok, Kakarot, cominciamo Oh, voglio le mani al cielo Oh, voglio le mani al cielo Io ragazzi Nel dubbio Le sto alzando Forza Doniamo la nostra energia Oh, è successo Allora, è successo È un po' di loro Ma non è ancora più Ma non è ancora più Ma... Ma... Bambini è un uomo! ... 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 non è vero Ci risiamo Round 2 Sì però siamo normali Eh ragazzi facciamo proprio un poco Esatto esatto in realtà Annaggia con queste caramelle Non sarei in grado di trasformarmi In Super Saiyan 2 però ragazzi Mi stiamo giocando qui E mica dobbiamo fare per forza le cose del film Ecco Diciamo ragazzi che c'erano scelte Più intelligenti però si è voluto Optare per Genkidama Per eliminare definitivamente Da un certo punto di vista ci sta Perché se esplode Non gli dà più la possibilità di rigenerarsi Ragazzi Sto prendendo le pizze E non so le pizze che prendete il sabato sera Quando c'è la partita Non volete stare a casa Perché siete dei vecchi E volete stare solo sul divano a vedervi Netflix No guarda Gli è rimasta una caccola Gli è rimasta una caccola Basta Voglio restare un secondo di più A combattere contro di te Beh d'altronde se ve lo chiede Mr.Satan Ragazzi alzate le mani È regolare E Goku dice ma ancora una volta mi fregherai lo spot È tutto regolare Io le rialzo ragazzi Perché di energia ne ho ancora abbastanza Forza E se non state alzando le mani Giuro ragazzi Che veramente Non sconfiggeremo mai Bu Ve lo dico Perdiamo questo combattimento E se non ci sono Qu... 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 Eeeeee! Nantica! Hannarete-c'le, Brigitte! Maki-zoic'l'acqu'lacch'vazard! G... B... B... Bacar'o! O... O-Ore-ni-kama-u-na! H... H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! O-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-oh-o! G-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-o-a-a-ba-a-a-a-a-a-a-aa! ABRICS-A-AH-AH-AH-A-A-A-A-G-O-O-O-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-C-H-H-H-H-H! E Succedeva ragazzi? Succedeva sta cosa ragazzi Non me la ricordo E parte la host Di Dragon Ball Z Qua siamo quasi ultra estinto eh Perché guardate ragazzi Si Si mi posso anche trasformare Ma voglio combattere in questa versione Che mi ricorda tanto l'ultra estinto Quello ancora non pullato insomma Non masterizzato come si dice Oddio E però vai pugno del drago Che spettacolo ragazzi eh E' finita ragazzi E' finita Ma mi ricordavo però sta parte ragazzi Che... 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 vedetevi questi momenti ragazzi che sono spettacolari se non conoscete la storia non è la vegeta che suggeriva questa cosa a 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 che epicità ragazzi boom esplode e non c'è possibilità di ritorno qua e ce l'hanno fatta di nuovo i goku e i suoi amici hanno salvato la terra ha e E ce l'abbiamo fatta ragazzi, tutte esse, secondo me è tanta roba, anche se abbiamo preso un po' di pizze all'inizio da Kid Bu Che è una cosa che potremmo fare da subito ragazzi, ci pensate no? Teleprasporto su Goku o su Vegeta, gli dai l'energia E' un vero che c'è, non è una cosa che ho vinto, non è una cosa che ho vinto, non è una cosa che mi piace Il fatto che sia un'implice per me Provami un'implice! Non, 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 non... ...d'essere un'implice! ...e' il fatto è un'imprice per me ...d'essere un'implice? ...d'essere un'imprice per me? ...mi sono un'imprice per me? ...d'essere un'imprice per me... ...e' tutti i due i due, non? Sì Sì ragazzi Ci sei ristretto Dende Ecco l'incontro dei nostri eroi Ma Dende è tornato un bambino Anche nel cartone è così Vidella c'ha la faccia Degli youtuber in copertina L'incontro dei nostri Non c'è un bambino Non c'è un bambino Assolutamente no ragazzi, finché ci sarà Ianco a morire le sfere del drago serviranno sempre bello bello ragazzi se ne fanno uno uguale con super è tanta roba tanta roba mi è piaciuto e anche la nostra avventura con dragon ball z kakarot arriva al suo epilogo ragazzi io vi ringrazio probabilmente vi avrò già ringraziato all'inizio alla fine è stata una serie ok anche se non doveva esserlo per le prossime serie ragazzi dovremmo aspettare però purtroppo mi sa tipo marzo con resident evil 3 e so che c'è un finale segreto c'è un ultimo nemico da affrontare però è abbastanza opzionale appuntamento prossimi video un saluto a tutti da mcshosha alla prossima Ma Ma